A noi ci serviva tantissimo vincere, sappiamo che potevamo farlo soprattutto in casa, era un'opportunità anche se Treviso non perdeva da tanto, quindi si sentiva che era una partita che poteva finire all'ultimo, decisivo qualsiasi possesso, così è stato e alla fine è buon per noi, grazie alla giocata di Jacopo anche. Diciamo fatto partite in Coppa Italia con la fortitudo, con Treviso, di un'intensità clamorosa e poi ci sono gare come quella di Montegranaro che restano un perché. Cioè è difficile da spiegare, questo è un emblema che ci portiamo da settembre più che dall'inizio stagione e quindi il nostro punto debole è sempre stato questo qui. Adesso Manto, il fatto che Manto avrebbe cambiato l'allenatore, proprio prima di affrontare voi, fa fare dei gesti di scongiuri clamorosi qui in studio. Noi sappiamo che bisogna vincere a tutti i costi, quindi ci cambierà poco.